ecco qua, proviamo? l'idea era tua troviamo questo abominio perfetto, quindi adesso... ma tu stai facendo un video? no, boh, non c'è nessuno per mò prima c'è la sala, cor 7 a 4 non c'è qualcosa, ma... no sto pubblicando su Facebook bravi, quasi ti taggo ahahahah andiamo? vai 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 ah no, ora live con amendola brothers, ah già l'ha fatto da solo tagli in auto collegatevi si mirko ma tu un po' gott lo fai da fuori la porta o lo fai... no, dalla roccia no, fa un po' gott alla vostra un po' gott alla vostra no, no, no está no, no... stai come si saudano le maniaglie in 3 secondi sai come si può dire quanto do è voce scendere per trovare le fosse di evocazione come tiri fuori in gala ora le miri e le salute però ora devi finirlo di urlare qua come è fatto se moriamo tutte e tre ci portano quindi lo facciamo così esatto tutte e quattro poi c'avete tutte e due la radianza giusto che devo stare qua io io le armi forti ti tento il mio amore se moriamo tu sei l'ultima scala in gioco ah no che riesco a rilevare시 nella nostra casa hai capito i suoi mette io mi hai peggato no ma è lo scasso no 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 maronna mi qua lo odio questa parte ah eh si qua già siamo in orbita secondo me basta che stai là dove stai adesso con amendola tutti e tre qua amendola io adesso arrivo vedo di fare fuori più schiavi possibili un trittico di rune dell'alveare inviolabile o così dico vabbè ma solo ora siamo qui lo spazio che andiamo in orbita sì solo ora stai là che stai là che stai là i cavalieri stai là è un cavalier un già cavallo stai là che stai là che stai là che stai là ma è un colpo mi danno mio a sciottano no aspetta che ho a sciottano come si fa dove vediamo agli altri magari ragazzi noi ci arriviamo a poco ce l'abbiamo fatto si riconfigura un momento è la prima un pelo proprio un pelino vabbè non ci spaventa crota non ci spaventa non sto scherzando l'ho scoperto anche io prima perché non ho tempo quindi ogni volta che mi collego io nessuno la sta facendo o già l'hanno fatto il giorno prima io la posso fare solo di martedì e mercoledì poi il lavoro ma io mi faccio un po' qua forse i miei ma fam ah Mirko l'hanno messa su youtube la diretta di ieri eh se vuoi vedertela eh ho visto ma perchè la quell'altro non l'hanno messo non so perchè le altre multiplayer non l'ha messa e questa invece si infatti quando la possibilità finalmente l'ha messa ah aspetta ho capito perchè l'hanno messo questa lo sponsor lo sponsor eh e pure io ci ho pensato però di solito anche senza sponsor le altre le messe è accorso tre settimane che non pubblicano il gameplay in diretta e beh lui come la volta andando ci vorrà una raga l'ultima adesso no 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 vieni dietro il tono in brim subito immediatamente dobbiamo salire lì sopra quando arrivi uno che stia lì per adesso eh solo per questi due minuti perchè adesso bisogna proprio far cassare le maglie preparatevi già le pesanti e tutto eh sì sì io c'ho abbattuto no hai ad anni da poco o ce li hai da giro? no c'ho solo arco pensa che io pure le armi tengo se no ho un'esotica primaria perchè non gioco tanto non hai un'esotica primaria? ho detto si e no ho l'esotica primaria perchè non gioco tanto sono cose tutte leggendari a me le armi qualcuna rara no dietro a mendola dietro 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 ui scappa scappa eh basta che voi siete dietro poi c'è... ma io c'ho una missione sui schiavi questi qua no? ma li devi uccidere colpo al colpo ma non esplodono? eh... si esplodono infatti rimani sempre con uno scudo di energia ma li devi colpire ai piedi quindi non in testa devi guardare in basso e fai l'attetto colpo al colpo poi ti allontani e ti caricati se ti so l'energia ne fai un'altra io l'ho fatto sempre si però adesso non hai un momento di spada te lo dico no 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 qua pure se mi guarda devi fare devi mettere la spada di trota a livello test e la parte ma dove stanno qui? eh... ma ci fai che c'è il cavaliere... eh adesso devo andare al treno ecco le maghiate eh... adesso devo andare al treno ecco le maghiate ecco le maghiate uuuuh ok fai la venire un po' nooo vai va vai via ma non c'è pure a me aspetta no no aspettare ma non mi dà che annullava ma è morto pure il mio Ah, non so di nuovo, la radianza. Ha dato pure una taglia. No! Non la uso la radianza. No, no, quanto è? Mamma mia, ma stai massacrando! Ma devi chiusci il capo. Vaffanculo queste stronze! Sì! Non c'è niente, Tony. Devo prendere solo con le armi. Se ne sono andate. Riesco ad arrivare da te? Sì, da me sì. Sì, sono proprio andato. Sono andato indietro. No, almeno mi metto indietro qua. Non è andato, non è andato. Sì, sì, ma per fortuna tengo... Mi tagliene a fuoco, capito? Quindi... Ma con l'ho divertentata la pistola d'oro... Ti fai proprio indietro perché c'è a danni tu. Eh, sì, sì. Controlla la situazione. Sto c'era uno che stia sopportando. Io so soprattutto. Ce ne dovrebbe essere un'altra, credo. No, no. È a vuoto. No. Forse... Gli alcolici. Gli alcolici. Gli alcolici. Gli alcolici. Pensava di che... No, ma rune decifrate. Tre su tre. Quindi ma si approfondi. Ma è stata più breve del... Perché è stato così breve? È strano. No, no. No, no. Decido dopo se cambio personaggio o no. Perché... La vedo dura. No, ma Pogot... Eh, ma non saprei... Ah, beh, se siamo fuori la porta. No, no. In questi casi che io sto cambiando personaggio e vuoi venire. Vedi? Pam. A parte i fatti che lo stregone... Secondo me è meglio fare di cambiare personaggi. Perché il stregone non fa più. Il stregone è migliore? Eh, lo so. Però io sono molto... Alla kamikaze. Quindi... Avendo poco pdf... Per fronte gli altri giocatori è più debole, diciamo. Quindi... Mi do muoio. Ma secondo me no. Guarda, secondo me è il più equilibrato. Eh, ma... La difesa è minima. Pare che ci stiamo avvicinando. Ah, metà difesa e metà agilità. Mentre il cacciatore è tanta agilità e poca difesa. Eh, il titano. Eh, il titano. Ah, ma perché... Io mi dimentico sempre di... Di regolare... Le magie. E mettere più... La magia. Quanti ce ne sono che ho messi? Diccelo. Eh, mo' ce n'era uno. Però... No, ma prima ho fatto la diretta con... Salagor. Ho fatto cinque di loro. Ho detto bellissimo. Mi sono chiamato. Quanta è che hai fatto? Cinque persone. Sì. Veramente. Ma... Tu hai tanti scritti nel tuo canale? No. Ma io ho messo nemmeno da tre settimane. Però... Lo devi fare comunque. Però se non c'è nessuno lo devi fare. Comunque... Eh sì, così si. C'è solo io. Lo devi fare. Ma qua è spazio. Non ho toccato più le monocine pesante. Non ho fatto tre uccisioni. E sono andato. Andiamo in fondo, allora. Io mi metto qua. Per sicurezza sto qua. La faccio da qua. Anche con i fucili di precisione da qua, così. No, no. Tutti o nessuno, hai capito? Ma speri, io la faccio da qua. È moriata. Cioè no, lo colpisco poco. Però... Tutti la... Moriamo. Lo facciamo da qua. Da qua. Però uno comunque deve stare dietro. Perché quando il cellulatore... Ma quindi spariamo direttamente a poco. Sì, sì, sì. E quindi troppo kamikaze. Troppo col fatto... Il funcionatore. Il funcionatore, il funcionatore. Tu lo fa un paio di volte e poi sparisce in mezzo. Ma perché? Se lo spariamo e lo facciamo, non è meglio. No, no, no. No, no. No, no. le ballenze uno che c'è dietro guardiano a terra eh sono l'ultimo guardiano? aiuto e come faccio? no buttiamo qui davanti alla porta no 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 ma se n'è andato perchè secondo me lui era quello che fissava la bici ah non lo so quindi io al mandare il messaggio stacca il microfono perchè stai facendo eco e lui dopo gli dice devo andare boh non so se lo farebbe per aiuto ah sto io dietro direi il tuo gioco vialettino nell'attore che che sta dietro questo gioco ciò ancora il galahorn ah ok lo sto io dietro vai va il galahorn dici il lanciarazio si si e poi a molti di quelli, togli un po' e li fanno male, li fanno male vai andiamo non becciarti davanti, hai come sto no, ce l'ho preso pure io, te l'ho colto però eh, aspetta che me lo ricarico però che me lo dovrei avere colto eh, me lo dovevi dire questa via scala eccolo qua, papam, pam, pam, andiamo via, non tenda si muovere urlatore urlatore ok 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 sparo io con il flanagan il flanagan il flan il flan il flan il flanagan il flanagan l'ambianza si ce l'ho la l'alianza eh vai l'alianza il uno vai andiamo a terra uah ci stavo correndo e per me non ce l'ho fatto Corri ragazzo laggiù un pamparà Non mi spazzeria, vedi Mamma cantando qualche tema al boro, goppa sanità Tone che prima avevamo fatto il gameplay, valla a vedere Già l'avete pubblicato, valla giù Sì sì, prima l'ho fatto giocare a FIFA Ah, FIFA, no, lo devo andare a vedere allora Ti ho fatto fare Napolini Ah, io ho fatto il video di un tipo Oreal Ah, di che cosa? Per fare la trasmissione su Twitch tramite Origin, il programma dell'Igu Ah Eh, non lo sapevi nemmeno tu No, non lo sapevi L'hai visto? No, non lo sapevi No, non lo sapevi No, non lo sapevi No, non lo sapevi No, 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 no Si, è la rossa che ti sta in funzione. A sinistra? Esatto. Ah, lo metto sempre io. Già una tappa. Piano a terra. Vanno accattando qualche tema. Buona responsabilità. Ma quanto sta la vita di Bogot? Dobbiamo provare ad andare là. Dobbiamo provare lì. E' impossibile provare lì. Non c'è il controllo. No, è impossibile. Cavalieri ovunque. Ah, urlatore! Urlatore! Deve sbagliarmi pesanti. Eh, io tengo il flanagan pronto qua. Vanno. Questi... E' morto, è morto. Strutturatore. Ma già non ti sei qui? No, nessuno vuole. Nessuno vuole. Nessuno vuole. No, ma prima... Sono arrivato a 5 perché la tizia... Mi segue la tizia... che ha sponsorizzato tipo The Crew quindi quando l'ho condiviso ha retweetato il mio tweet comunque pure io su Twitch non faccio tanta gente quando facciamo la diretta con il nostro canale Twitch su multiplayer ci sono sempre intorno agli 80-100 persone ieri infatti c'erano una novantina quando c'eravate anche voi che hanno visto il mio... brava e noi quando la faccio il mio canale Twitch stai parlando, non di YouTube non recuperiamo i film tu per farci vedere anche che vuoi dire che c'è un grande croca brava fai dei video di Dio che c'è un po' che c'è un po' sta a metà questo è un po' meno ci sono cazzatelli davanti ci sta ci sta ci sta un po' di ma oh ma c'è la cosa qui sono pochi bisogna solo non c'è nessuno adesso vai vai ci stai in fondo, volete trovare ci stiamo vai 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 non c'è nessuno non c'è nessuno io ce l'ho fatto poi ci dobbiamo mettere qua lo so no, non c'è nessuno non c'è nessuno ma perché non c'è nessuno adesso non uccidete gli accoliti che vedete ci sono solo i cavalieri perché questi gli accoliti che non sponano più non sponano più quindi lasciamo quelli che ci sono non sono due no, non ho capito questa cosa lasciamo vivi 2-3 accoliti in modo che si blocca lo spon non c'è nessuno ah ok ma infatti è vuoto la stanza non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno abbiamo più visione non c'è nessuno sento qui da dietro oh! quelli che esplodono oh Amami aspetta ci sono io ci sono io voglio usare è un flanagan mi mancano altri 2 minuti no ragazzi quando ho capito io dovrei cambiare il sistema ah si si se lo faccio è meglio che mi senti ma quello è quasi morto valla a cambiare lo cambia qua è arrivata mamma la nave no si sono morti no 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 però si è vero è un po' più giusto l'abbiamo fatti pure della nuova servizia siamo fermi qua non spariamo nissù eh devo dargli un colpo aspetta che mi do il colpo cazzo è un po' più giusto è un po' più giusto è un po' più giusto sto andando fuori dalla porta è un po' più giusto 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 è pochissimo è un po' più giusto è un po' più giusto è un po' più giusto Io mentola resisti a me Sì, no, beh, sto dietro la porta, non mi svolta, non mi uccide Mamma mia, ragazzi No, se perdevamo ad essere una beffa totale Eh sì Io stavo cambiando l'arma, stavo caricando, stavo mettendo i colpi di uolo Che muoco flammare, non lo uccidiamo Ma vengo Qualcosa di oscuro si accita in fondo alla bocca dell'inferno Lo percepiamo Una bovina dell'altecola è fonte di un male assurdo Penetriamo nelle loro fosse di evocazione E distruggiamo la creatura Prima che la scaglino contro di noi E li ha spawnati? No, ancora no, io ancora no Aspetta, sentiamo Donnie Ma dove sto? Ma dove? Aspetta, senta, senta, vado io No Un datore, un datore Eh, vai, vedi se ce la muovi Eh sì, ma ma lo dobbiamo, io lo devo costruire un'altra volta Ah, beh Eh, forse Donnie lo devo costruire un'altra volta Vai Donnie, busta, ti busta e ti diamo a me da giunto Anche se non vedi Gliela data, ti lo vedi Rianimatevi che non c'è nessuno, dai No, cara, ti vengo là Ah, fuggi, 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 fuggi L'abbiamo Morto? Quasi No, ma ora mi bitto io, eh No, 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 è morto No, è morto Dammi qualcosa di buono e l'abominio cadde sotto i nostri colpi l'avete presa? l'avanguardia sarà felice sì sì mi ha dato 15 cose 500 punti più 3 non so cosa eh per vedere adesso ci vuole vedere le gambe mi salvano i gambari rompì ghiaccio o monte carlo dai rompì ghiaccio eh un mio amico ha trovato il monte carlo oggi nella prima cassa di croce eh sì c'era quando c'era anche io ah è vero c'era anche tu dai ti prego oggi sono andato troppo a scrocco con la cacciatrice due uccisioni il suros che merda ah non ce l'hai già? sì ce l'ho già spezzasoli guarda che per l'arma mi ha dato a me ma vengo chiudi qua e ti ti ha dato spezzasoli Tony? ce l'avevi già? eh però c'è già le bestie ce l'avevo già ma il suros però ce l'ho non potenziato magari mi butto quello e mi tengo questo ma vaffanculo no ma pensa che lo spezzasoli ce l'ho a livello 30 quindi questo qua è 36 quindi lo rompo con l'altro sì vabbè vaga io ti andavo a mangiare il suros tra me è un caccio mi ha dato la cancellazione eh ma a me non mi serve non è solamente il pezzo della dell'armatura comunque a me non è meno nessuno mi serve nei frammenti vabbè sì questo questo è la quarta quarta volta quattro armi esotiche ma fa ma ce n'è un culo vabbè comunque mi serve solo il pezzo dell'armatura esotica a 30 però tu non è la mia arma non è la mia arma però ma come si chiama cancellazione? ah no io ho prestigio e apocalizzazione no 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 intendevo la mia primaria ah ok la tua prima cosa è la tua crassa la tua crassa ah bagarospo io vado a mangiare casomai dopo non lo so vabbè Tony grazie mille Tony ciao 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 è una ragazza buio che mi ha fatto fa meno qualcosa vai giù buio che mi ha fatto